Zuccheri e colesterolo. Regolarli con un rimedio naturale. Per rilevare i cambiamenti nei valori del sangue, dopo il consumo del succo di zucca si raccomanda di eseguire gli esami prima del trattamento e dopo averlo portato a termine. Diabete e malattie cardiovascolari sono note come malattie silenziose, motivo per cui è molto importante tenerle sotto controllo. Regolare i livelli di zuccheri e colesterolo è fondamentale per evitare eventuali complicazioni. In questo articolo vi mostriamo come preparare un rimedio naturale, semplice e delizioso. Questo rimedio va utilizzato come complemento alle cure necessarie a controllare i livelli ormonali e i composti associati al diabete e alle malattie cardiovascolari. Naturalmente, deve essere accompagnato da una buona alimentazione, adattata alle proprie condizioni. Prendete nota iniziate a tenere sotto controllo zuccheri e colesterolo. Cos'è il diabete e quali sono le cause? Il diabete mellito è una malattia cronica che si verifica quando il pancreas non riesce a produrre insulina correttamente. In questi casi l'insulina può non essere sufficiente per le necessità dell'organismo oppure il pancreas non riesce a utilizzarla in maniera efficace. La funzione primaria dell'insulina è quella di regolare i livelli degli zuccheri nell'organismo. Per questo motivo le irregolarità di questo ormone ne provocano l'aumento. Ciò significa che il diabete non è di per sé una condizione data dagli alti livelli di zuccheri, quanto dall'incapacità del pancreas di gestire l'insulina. Se il diabete non viene tenuto sotto controllo può danneggiare alcuni organi apparati del nostro organismo. In alcuni casi si rende anche necessaria l'amputazione degli arti inferiori. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, gli alti livelli di zucchero sono stati la causa di morte di 2,2 milioni di persone nel 2012. E nel 2014, l'8,5% delle persone adulte soffriva di diabete. Per il 2030, la stessa organizzazione stima che il diabete sarà la settima causa di morte a livello mondiale. È per questo che la cura e la regolazione dei livelli di glucosio nel sangue sono tanto importanti. Perché tenere sotto controllo livelli di colesterolo? Anche mantenere livelli normali di colesterolo è importante per godere di buona salute. Il colesterolo è una sostanza che si trova in tutte le cellule del corpo ed è necessaria per il suo funzionamento. Tuttavia, quando è presente un eccesso di questa sostanza, essa si mescola ad altre, ostruendo i vasi sanguigni. I vasi sanguigni ostruiti danno origine a una patologia conosciuta come arteriosclerosi. Questa condizione, a sua volta, provoca malattie coronariche che mettono in pericolo la nostra vita, rendendoci maggiormente soggetti ad attacchi cardiovascolari. L'OMS afferma che le patologie cardiovascolari sono quelle più letali a livello mondiale, con 17 milioni di vittime. Analogamente, afferma che un numero importante di persone affette da ipercolesterolemia non riceve attualmente le cure e i controlli adeguati. Se intendete ridurre i rischi di soffrire di una malattia cardiovascolare è importante che controlliate ciò che mangiate. Evitate lo stile di vita sedentario e praticate attività fisica per migliorare la qualità delle vostre vite. Succo di zucca per regolare zuccheri e colesterolo. Ingredienti 1 barra 2 tazza di zucca, 100 g, 1 bicchiere d'acqua, 200 ml. Preparazione. Mettete i pezzi di zucca e l'acqua nel frullatore e frullate fino a quando otterrete un composto senza grumi. La consistenza del frullato dipenderà dai vostri gusti, perciò la quantità d'acqua può variare. Noi vi raccomandiamo di utilizzare la quantità equivalente a un bicchiere. Per ottenere migliori risultati dovrete assumere il succo giornalmente, a digiuno, per un mese. Non aggiungete zucchero. Quali sono i benefici della zucca per la salute? La zucca contiene alti livelli di fibre, vitamina A, B6 e E, potassio, ferro, riboflavina e fosforo. Questa bevanda è utile non solo per regolare i livelli di zuccheri e colesterolo, ma anche per i trigliceridi. Come ci riesce? Libera il sangue dalle tossine e pulisce le arterie dal colesterolo cattivo, LDL. In questo modo previene anche le malattie cardiovascolari. Inoltre, grazie all'alto contenuto di fibre, combatte anche la stitichezza favorendo il lavoro dell'apparato digerente. Migliore il funzionamento dell'organismo, ripulendolo da ciò che non è più necessario. Rispetto agli effetti sui livelli di glucosio, una raccolta di studi ha evidenziato dei risultati favorevoli nella regolazione dell'insulina in test condotti sui ratti. Gli scienziati hanno così concluso che se i risultati verranno replicati anche nei soggetti affetti da diabete, ciò potrebbe confermare l'efficacia della zucca. Includere questo alimento nella vostra dieta, sia in forma di succo che di zuppa, apporterà innumerevoli benefici al vostro organismo. Uno di questi è ridurre il livello di zuccheri e colesterolo. Naturalmente, non dimenticate che alla base del benessere c'è sempre un'alimentazione equilibrata. Evitate gli alimenti che incrementano i valori appena menzionati. Rivolgetevi periodicamente a un medico specialista, per verificare il vostro stato generale di salute e per monitorare i livelli di ormoni e di altre sostanze nel corpo. In questo modo, vi fornirà tutte le indicazioni per regolare i valori se presentati delle alterazioni. Non sottovalutate l'importanza della diagnosi precoce delle anomalie organiche per agire in tempo ed evitare future complicazioni. Non dimenticate di includere l'attività fisica nelle vostre abitudini quotidiane, in modo da combattere efficacemente lo stile di vita sedentario.